questo cuore di Fico d'India, che per me personalmente è il simbolo proprio di appartenenza a questa terra, di coperto, di spine, perché comunque è un cuore che va trattato con rispetto, che devi sapere avere a che fare con un cuore di un siciliano. Sono cresciuto in un quartiere molto particolare di Palermo, che è lo Zen. Quando da ragazzino percorrevo le strade del quartiere, mi chiedevo sempre cosa poter fare per migliorare questo quartiere, per migliorare questa città. Mi sento un po', tra virgolette, uno dei tanti esempi che hanno attraversato il quartiere. Mi sento in qualche modo di rappresentare umilmente sempre ciò che di bello può crescere, può nascere e può venire fuori da realtà così complesse. Una storia di arte, una storia che però ci insegna anche come il riscatto delle nostre periferie è possibile attraverso la cultura della bellezza, in questo caso del collegamento all'arte, ma anche della possibilità, delle potenzialità, dello straordinario dono che un'esperienza di vita e di crescita in un quartiere come lo Zen di Palermo può diventare una grande risorsa per scoprire le radici dell'anima. La città è una città nuova, una città che si sta andando a ricollocare nell'ideale nazionale e anche internazionale come luogo innovativo, moderno, con un'immagine diversa rispetto a quella del passato.